Sono sette le famiglie nissane scelte da Legambiente che dal 9 febbraio e per le successive due settimane, vivendo nelle loro abitazioni e scelte tra famiglie che abitano nel centro storico, quartieri periferici, villette, anche in alloggi di edilizia popolare, saranno monitorate sui consumi energetici e sulla qualità dell'aria indoor con l'aiuto di sensori e termocamere. Un'iniziativa che rientra in Civico 5.0, un altro modo di vivere il condominio, ovvero la campagna di monitoraggio di Legambiente sui consumi energetici delle famiglie. In questo stesso periodo è nato anche Sicilia Carbon Free, la campagna di sensibilizzazione regionale per la decarbonizzazione al 2040 della Sicilia, temi che riguardano l'efficientamento energetico edilizio e delle tecnologie fino ad arrivare al sharing economy condominiale, che si confermano essere ancora una volta tra gli obiettivi più urgenti per Legambiente. Legambiente nazionale e regionale stanno facendo in parallelo una campagna di monitoraggio di condomini, singole abitazioni, per verificare questi consumi e per dare appunto dei consigli. Anche Caltanissetta sta partecipando, sono stati dati dei kit che trasmettono via wifi i consumi di alcuni elettrodomestici particolarmente energivori, ma anche nelle stesse unità abitative verrà fatto un monitoraggio della qualità dell'aria indoor e anche un'analisi termografica attraverso delle fotocamere per verificare l'efficienza, la dispersione, l'efficienza energetica di questi edifici. I risultati raccolti verranno poi raccontati in un evento finale regionale dove le famiglie coinvolte riceveranno una scheda personalizzata sui risultati delle criticità riscontrate e delle possibili soluzioni per migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni e per abbattere i costi sui consumi.